Buongiorno per Notizie d'Abruzzo, siamo in compagnia di Alessandro Nives, lei questa mattina è stato presente nella sala Federico Caffè dell'Università di Chieti Pescara per incontrare il suo concittadino Luca Micone perché ha realizzato questo braccialetto termico, la società si chiama Termotag, perché tanto interesse da parte sua? Perché a parte che sono un incurabile curioso dell'innovazione, poi lui ha avuto realmente una brillante idea che potrebbe essere sfruttata benissimo dalla nostra città, appunto lui ha inventato questo bracciale termico che riesce a modificare la temperatura corporea anche solo di qualche grado ma per far sentire comunque sia un sollievo di temperatura e una certa agevolezza. Credo che si possa riflettere e poter proporre di utilizzarlo anche, promuoverlo nella nostra città e poter dare una mano anche nei periodi più freddi d'inverno a fare una passeggiata lungo il nostro bellissimo corso, casomai godendosi una temperatura più umide, stando però all'esterno e godendosi la città. Lei prima parlando con altri suoi concittadini ha parlato anche del ruolo di Chieti e di come la città deve tenere testa a tantissime difficoltà, qual è a suo giudizio la priorità per il rilancio di Chieti? Oggi abbiamo avuto l'esempio che Chieti è piena di persone brillanti e brave persone. Il problema di Chieti non sono le persone che ci sono che sono sbagliate. Credo che sia un po' sbagliata l'impostazione della politica, un po' l'etica della politica. L'innovazione, il progresso, sono cose positive ma a volte creano anche un po' di freneticità. Vogliono un po' velocizzare i tempi, dimenticandosi quali sono le priorità e quali sono i valori. Credo che le persone che abbiamo noi a Chieti sono molto valide. Dovrebbero solo imparare a collaborare di più e mettere la città per un periodo di tempo avanti a tutta ogni interesse. Chieti non ha problemi per rialzarsi, si può rialzare in pochissimo tempo. L'artigianato è un altro aspetto economico della nostra città, fondamentale, deve essere rilanciato. Io associo l'artigianato a tanta tradizione e credo che in futuro a Chieti l'artigianato sarà rivalutato tantissimo. Bene, con questo auspicio salutiamo Alessandro Nives per la sua cortezza e testimonianza per il premio della Confederazione Nazionale Artigiani. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.